ciao a tutti oggi prepareremo il ciambellone all'ananas il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo doppio zero amido di mais uova yogurt olio di semi di girasole zucchero vanillina la scorza di limone o pasta di limone lievito per dolci sale e ananas sciroppato sia a pezzetti che a fette andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova e lo zucchero ed azionare il bimbi con il cestello al posto di misurino per otto minuti 37 gradi velocità 4 aggiungere l'olio e lo yogurt ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 2 aggiungere la farina l'amido di mais la pasta di limone o la scorza grattugiata di un limone la vanillina il sale e il lievito ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 4 aggiungere l'ananas tagliata pezzetti ed amalgamare con la spatola versare il composto in uno stampa a ciambella da 26 cm ben imburrato e posizionare sulla superficie l'ananas cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40 45 minuti fare la prova a stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo ciambellone all'ananas grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti